Clutch è un podcast che parla di sport, concentrandosi sulle vittorie insperate e le sconfitte più dolorose, i momenti cruciali della vita di atleti formidabili. Dialoghi condotti da Andrea e Matteo, amici da una vita e malati di sport, con l'intenzione di informare, appassionare e condividere riflessioni. Questo è Clutch, l'epica dello sport. Benvenuti a Clutch, l'epica dello sport. Io sono Matteo e lui è Andrea e abbiamo deciso insieme di iniziare questa avventura raccontando la storia e i momenti salienti, perché noi parliamo solo di momenti salienti, di un grandissimo sportivo ma soprattutto di un grandissimo allenatore. Un signore del calcio sicuramente e parliamo di Claudio Ranieri. Claudio Ranieri, che per noi è un allenatore di casa essendo nato a Roma. Sì, Testaccino. 20 ottobre 1951. È un allenatore che ha attraversato tante generazioni di calcio diverse e la sua prima esperienza importante è la pallestero. Nel 97 va a allenare Valencia. Vince la Coppa del Re. Vince la Coppa del Re. E quello è il suo trampolino di lancio per la carriera che poi avrà fuori dall'Italia. Tanto è vero che nel 2000 arriva in Premier. Sì, infatti noi andiamo avanti un po' a grandi passi anche perché il senso del nostro format è quello di concentrarci sui momenti di svolta, i momenti chiave che sono quelli che noi chiameremo l'All It's Lost, cioè il tutto è perduto o il Clutch Time, cioè il momento in cui effettivamente lui tira fuori il coniglio dal cilindro. Quindi sì, nel 2000 va al Chelsea, sta quattro anni lì. Quattro anni. Massimi risultati, sono un secondo posto in Premier che comunque è tanta roba. Anche se era un'altra Premier, a onor del vero. Era un'altra Premier, però il Chelsea non era sicuramente il Chelsea di oggi, cioè una squadra che all'epoca annoverava comunque tanti italiani. Sì. E riesce ad arrivare quindi secondo in Premier e fare una semifinale di Champions League. Da lì c'è un passaggio che poi è un passaggio attraverso una nazionale che lo riporterà in Italia ad allenare nel 2007 la Juventus. La Juventus presa dopo Calciopoli. L'uomo giusto al momento sbagliato. L'uomo giusto al momento sbagliato. Anzi, il posto giusto al tempo sbagliato, perché lui Juventus post Calciopoli nel 2007, quindi la Juventus in una delle poche stagioni nella sua storia, che la vede non tra le pretendenti al titolo, perché appena tornata dalla Serie B... Con una rosa di ricostruzione, con ambizioni che erano sì importanti, ma era soprattutto un momento in cui dovevano ricolmare quel gap per tornare grandi. Certo. E subito dopo Roma. Subito dopo Roma e poi Inter, se non erro. Lui qualche anno dopo commenta la sua storia, diciamo, nelle grandi del calcio italiano, dicendo Alla Juventus sono arrivato al momento sbagliato, con l'attuale dirigenza sarebbe stato diverso. Siamo nel 2013 quando fa queste affermazioni. Alla Roma avrei fatto meglio a lasciare dopo il primo anno perché avevo capito che non si poteva investire. All'Inter dovevo andare via dopo la cessione di Agomotta. Il ridimensionamento era evidente. Poi ti faccio un'altra citazione sua. Io, aggiustatore, ognuno di noi ha un karma. Evidentemente io ho questo. Quella che è la mia percezione personale è che Ranieri è sempre stato chiamato nel momento del bisogno. Perché? Perché la sua grande qualità è quella di far rendere al meglio il materiale umano che ha a disposizione. Quindi pochi fronzoli, poche richieste, massimizziamo il risultato con quello che c'è a disposizione. Poi il discorso di essere un vincente o perdente nello sport è molto complicato da affrontare. Non sarà nel primo o nell'ultimo dei personaggi, dei grandi personaggi dello sport che incontreremo che avrà un po' la nomea di essere un eterno secondo o comunque di un essere il più grande. Piccola parentesi, quella di Luciano Spalletti che fino all'anno scorso è stato vissuto sempre come un eterno secondo. e ora che ha vinto con il Napoli divorando quel campionato, fagocitando completamente la Serie A improvvisamente è diventato quello che è sempre stato. C'è un grandissimo tattico innovativo sotto mille fronti per quanto riguarda il calcio moderno, la bellezza del gioco, le intuizioni, quelle sono sempre state riconosciute, però non sa vincere. Una volta che quello vince... Perché la vittoria ti eleva a tal punto che ci scordiamo di tutto il resto. Cioè, oggi noi, ok che è fresca la vittoria del campionato del Napoli, va bene che da poco è diventato allenatore della nazionale, però in qualche modo è stato un... Ci siamo dimenticati immediatamente di tutti i secondi posti, di tutte le occasioni magari che Spalletti ha mancato? Non lo so. Però... Ma non può essere... Cioè, secondo me il problema è creare una dicotomia tra... Fu così forte tra se vince ha vinto l'allenatore, se perde ha perso l'allenatore, ci sono tantissimi fattori. E il fatto a me che ha fatto sorridere nel tempo, per esempio, è stato vedere l'Inter di Suning che paga un anno... Un anno. Un anno di stipendio per farlo stare a casa a Spalletti per prendere Antonio Conte. Per carità, Antonio Conte ha sempre dimostrato di essere un vincente e di vincere. Però la storia oggi ti dice che alla fine hai messo in garage una Ferrari per tirare fuori un'altra Ferrari, cioè due macchine simili magari, no? Ma poi mi fa tanto la differenza i buoni uffici, no? Come vengono definiti. Certo. Cioè, qual è la percezione sia dei media che poi del pubblico, di Spalletti, di Ranieri? Cioè, Ranieri nella sua carriera ha avuto tanti momenti alti, però ha avuto anche bassi. E in quei bassi abbiamo un pochino troppo perso quella che è la percezione delle imprese che ha compiuto Ranieri. Viceversa, Conte è uno che si è approcciato alla panchina, nonostante all'inizio il suo percorso non sia stato pulito, fatto solo di vittorie, poi ha iniziato a vincere. Certo. Quindi diventi un vincente seriale per cui vieni chiamato per vincere. Perché? Perché sei garanzia di successo. E questo fa tutta la differenza nel mondo, nella percezione che poi noi abbiamo da casa, perché ci viene raccontato come un vincente. Ranieri ci viene raccontato come il fixer, cioè la persona che arriva nel momento del bisogno e sistema le cose. Il sistema le cose. Da una quadradura al cerchio. Sì, porta la nave in porto. Lui, stai sicuro che alla fine del campionato comunque avrà raggiunto quello che è l'obiettivo minimo della sua società. Tra l'altro ti ricordo che Ranieri, grazie alla sua esperienza, grazie alla lunghissima carriera che ha avuto, è uno dei pochi allenatori, forse l'unico allenatore, che ha fatto tutti i derby più importanti d'Italia. È vero. Questo infatti è l'aspetto che mi colpisce di più personalmente. Il fatto che lui abbia ottenuto, mantenuto, la simpatia, il rispetto e l'affetto veramente di tutti. Credo che una ragione importantissima sia la sua capacità di stare nelle cose, essere veramente un gran signore, ma allo stesso tempo avere quelle empatie e quell'affetto anche di essere appunto... Un po' il nonno di tutti. Il nonno di tutti, romano, in quel senso. Sì, sì, buonazione, però una persona estremamente educata, una persona che ogni volta che si presenta davanti ai giornalisti in conferenza stampa, non cerca mai lo scontro, né col giornalista, né tantomeno per un episodio dubbio con un arbitro, o per una scelta magari che è stata sbagliata. Si assume sempre le sue responsabilità ed è uno dei pochi che ci mette sempre la faccia. E poi è uno di quei pochi che non è un integralista di un modulo. Cioè, sa plasmare il suo lavoro, come abbiamo detto prima, in base alla rosa che ha a disposizione. Oggi siamo abituati a viverci il calcio e gli allenatori di calcio come un po' degli integralisti, ognuno del proprio modulo. Ci sta un Conte che gioca sempre col suo 3-5-2, Mancini un 4-3-3, Spalletti adesso in realtà un pochino è cambiato, però nasce come un 4-2-3-1. L'albero di Natale d'Ancelotti. L'albero di Natale d'Ancelotti. Infatti invece Ragneri è sempre stato uno e ha messo a disposizione la sua esperienza, la sua conoscenza per la società e per i calciatori che aveva a disposizione. Secondo te parlando in maniera più macro di calcio è un segno di debolezza o è un segno di intelligenza? Per me è un grande segno di intelligenza. sapersi adattare è la cosa più difficile. Sapersi adattare dopo così tanti anni di carriera e essere ancora disposto a essere il primo a mettersi in discussione rimane per me una grande capacità, una grande qualità che ha Ragneri. Umiltà. Umiltà. Umiltà genuina, non umiltà di facciata costruita. No, infatti potendo riassumere Claudio Ragneri in un'unica frase per me, un signore del calcio. Lo è, lo rimarrà sempre, tant'è vero che poi le manifestazioni d'affetto che lui riceve non sono per mod... sono reali. Cioè due standing ovation. Due standing ovation all'Olimpico, una a Roma-Parma in cui lui prende per la seconda volta una Roma veramente diroccata in un momento molto complicato e realmente la traghetta perché è proprio l'ultima parte di quella stagione e Roma-Parma 2-1 c'è una standing ovation in cui c'è un grande momento di omaggio da parte della Curva Sud e lui si commuove davanti a tutto lo stadio. Stessa cosa poi succede qualche anno dopo. In Conference League, semifinale di Conference League, questa nuova Coppa Europea, la Roma sfida proprio il Leicester. Quello è stato ancora più bello, se vuoi, perché tutto lo stadio si alza in piedi nel momento in cui la regia inquadra Ranieri. Chi non era l'allenatore in quel momento del Leicester, stava solo in tribuna. Non era neanche l'allenatore della Roma. Esatto. Stava solo in tribuna. Per vedersi la partita. Assolutamente. E tutti quanti si alzano in piedi sia i tifosi della Roma sia i tifosi dell'Ester a rendere omaggio a Claudio Ranieri. E tra l'altro mi ricordo bene la scena perché guardavo la partita e in quel momento la partita passa in secondo piano. Addirittura in regia decidono di mantenere la camera fissa su Ranieri in tribuna mentre il gioco continuava. Cioè non è che la palla era ferma. Comunque semifinale di una Coppa Europea. Esatto. Quindi anche... Cioè si è percepito proprio l'importanza di quel momento perché era un tributo da parte di forse le due tifoserie che lui ha più nel cuore. Non lo so questo. Però probabilmente è così. Che gli rendono un omaggio e un tributo che è giusto. Mi è servito un gancio perfetto per arrivare però a uno dei punti più dolenti della storia di Claudio Ranieri e della storia dei romanisti anche tu non lo sei io sono romanista in questo caso specifico la contingenza specifica di questa storia ci vede perdente e vincente perché tu sei dell'Inter siamo nel 2010 veniamo da una serie di stagioni nel post calciopoli dopo il 2006 in cui esistono praticamente solo due squadre a competere per il titolo e sono l'Inter e la Roma l'Inter di Bancini prima la Roma di Spalletti la Roma non è mai abbastanza forte per poter competere per il titolo però può competere sempre per una Coppa Italia la Supercoppa italiana è una sfida che si ripropone di volta in volta e diventa sempre più acuto questo cioè il sport è fatto di dualismi di rivalità questo dualismo sì questa rivalità in quegli anni era quella diventa sempre più forte quella rivalità finché non arriva Mourinho che è proprio il campione del se vuoi esagerbare gli animi tra due squadre chiami Giuseppe Mourinho perché non ricordo chi era che sempre piccola parentesi è che del Barcellona ai tempi dicesse ma guarda noi nel classico sì c'era grande competizione ma non è che ci odiassimo così tanto prima che arrivasse Mourinho poi è cambiato tutto poi è cambiato tutto perché lui doveva rompere l'egemonia di un Barcellona che era che piallava i campionati e lui trova le motivazioni dentro veramente all'emotività dei calciatori quindi Inter e Roma sempre testa a testa stagione 2009 2010 stagione particolare perché dopo due giornate all'inizio del campionato cosa che succede raramente di solito si dice non mangia il panettone no? però qua non mangi manco non so che cosa si mangi ai fichi i settembrini non hanno mangiato Spalletti Spalletti viene esonerato dopo una sconfitta con la Juventus al suo posto subentra Claudio Ranieri che parte quindi da ovo love come si dice nel tennis che all'inizio del campionato è comunque uno zero relativo cioè può avere un impatto sì forse non lo so è la terza cioè lui arriva alla terza giornata quindi in realtà ha ancora a disposizione quasi un campionato intero però poi alla fine in realtà quegli zero punti in due giornate hanno pesato la differenza del mondo hanno pesato ma non è questo l'All It's Lost il tutto è perduto di Claudio Ranieri ma arriverà al 25 aprile del 2010 però facciamo un passetto indietro cioè andiamo all'11 aprile del 2010 perché nell'11 aprile del 2010 succede che la Roma riesce a scavalcare l'Inter in classifica la vittoria 2 a 1 contro l'Atalanta tra l'altro tutto il campionato passato sempre a rincorrere comunque con una distanza che poi piano piano si assottigliava sempre di più esatto da 5 a 8 punti finché a un certo punto riesce a fare questo salto questo balzo e a superare in classifica il 25 aprile del 2010 c'è Roma Sampdoria ora contesto un po' di contesto la Sampdoria oggi è in serie B questo è un dato di fatto quindi noi abbiamo cioè magari chi ci segue più giovane si può immaginare la Sampdoria cioè si immagina la Sampdoria come una squadra di bassa classifica ma quella Sampdoria era quinta alle porte dell'Europa si giocava l'Europa e in quella in quella Sampdoria comunque giocavano Cassano giocava Pazzini c'erano dei giocatori non era una squadra irresistibile ma c'erano dei giocatori la Roma era una squadra che viaggiava sulle ali dell'entusiasmo aveva una città che la spingeva una città che la spingeva poi tra l'altro per la prima volta c'era proprio la possibilità tangibile di vincere dopo tanti anni chiaramente perché l'ultimo scudetto di capello comunque ha fatto passare quasi dieci anni e quindi si arriva diciamo al sorpasso quindi venivamo dal boato del 2-1 sempre all'Olimpico con il gol di Tony su quel tiro sghembo di Taddei Rasoterra che diventa un assist per Tony e uno dei boati più grandi che abbiamo mai sentito dalla curva sud dallo stadio in generale dallo stadio Olimpico quindi grande entusiasmo ma non si fa i conti con Antonio Cassano in questo caso Antonio Cassano anche pazzini però Antonio Cassano entra negli spogliatoi questo lo dice chiaramente Paolo Condonne da ex da ex perché Antonio Cassano sta milita nei blucerchiati in quell'anno e lui è così Carlo Zampa lo chiamava Peter Pan uno scansonato uno non c'è bisogno di descrivere o di presentare Antonio Cassano uno dei più grandi geni comunque del calcio moderno però per come la vedo io anche per quanto io abbia amato vedere Totti Cassano in quegli anni cioè io avevo proprio la sensazione nitida quando guardavo Totti Cassano di io questa roba così bella non la vedrò mai più e non l'ho mai più vista infatti stavo per dire e non l'ho mai più vista cioè quella roba lì in realtà la Roma di Francesco forse a livello di gioco era anche meglio però sì ma l'intesa e la tecnica e la classe che avevano quei due che si senza parlarsi riuscivano a fare delle cose meravigliose perché il tra genio ti capisci erano erano geniali erano veramente geniali il problema è che genio sregolatezza troppa sregolatezza sì e quindi tornando e quindi tornando all'intervallo tornando a al nostro Roma Sampdoria lui decide prima di Antonio Cassano decide prima di entrare così racconta Condò perlomeno e quindi Totti di entrare nello spogliatoio della Roma e di dire ragazzi io stasera vi faccio perdere la partita vi faccio perdere il campionato che è diverso dalla partita ancora più male esatto e viene chiaramente io non ora la domanda te la pongo io a te a dei livelli così alti una un avversario ti può entrare nella testa con una frase del genere o sei troppo sei troppo un professionista perché questo possa avere un impatto per me può entrarti in testa nella misura in cui tu lasci spazio nella tua testa per fare entrare il tuo avversario cioè probabilmente non sarà quello che ha fatto perdere quella partita alla Roma però una piccola percentuale sicuramente Antonio Cassano col suo modo di fare l'ha messa anche solo per incattivire un pochino l'ambiente anche perché nello sport io ho la convinzione estrema che la vera differenza la faccia sempre la testa assolutamente per quanto poi il calcio sia un gioco di squadra si gioca in 11 quindi è chiaro che la prestazione del singolo può avere un impatto importante ma non determina da solo pochi casi possiamo dire però diventa una testa collettiva quante volte ti sembra vuol dire che lì c'era il dubbio cioè là dentro di te sentivi la possibilità che forse quella partita non te la portavi a casa così facilmente sì ma io dico che ci sono dei momenti in cui negli sport di gruppo in generale si vede che la mente diventa una mente collettiva cioè una quando si va giù di testa si va giù di testa tutti insieme poi magari le gesta di uno aiutano tutti a ritrovare fiducia e tutti ritrovano forza lo sottrascinatore esatto le giocate le cose è chiaro se ti viene il braccino nel tennis Steven a te il braccino ma è come se a tutta una squadra venga il braccino a volte no e abbia paura di vincere effettivamente paura di concludere quella partita e poi i grandi campioni sono quelli che appunto i clutch coloro che eccellono nell'avversità è anche vero che mi viene in mente adesso Mancini il primo Mancini il primo Roberto Mancini allenatore dell'Inter che arriva comunque in un momento in cui all'epoca Massimo Moratti comprava chiunque voleva l'allenatore e lui dice cioè qui bisogna portare la cultura della vittoria cioè vincere aiuta a vincere e sicuramente il fatto di trovarsi in una posizione di vantaggio in classifica a quante giornate alla fine comunque in casa avevi tutto da perdere ma anche tanto da vincere perché un'altra vittoria ti avvicinava ancora di più ma io nel preparare questa questa puntata ho rivisto la partita e tu vedi al nono al secondo già subito poi di nuovo al sesto poi al nono tre quattro cinque occasioni da gol ma hai presente quando una squadra scherza con l'altra squadra cioè si sente talmente più forte talmente più dominante che scherza con l'altra squadra io ho sempre avuto la percezione della Roma sia di Spalletti anzi in realtà solo della Roma di Spalletti che fosse tanto forte quanto si sentisse bella e si specchiasse nella sua bellezza questo è stato un difetto della Roma per tantissimo tempo e quindi segnava molto meno di quanto in realtà creava perché sembrava che volessero entrare con la palla in porta sì 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 questo è vero fatto sta che a un certo punto dal centrocampo Francesco Totti riesce a trovare Vucinic sulla fascia sinistra perché Vucinic è un numero nove ma un numero nove atipico perché ha questi Montenegrino sempre questi dai Balcani escono sempre questi fenomeni un po' strani anche Funambolicon come si muove ha un grande scatto piedi educatissimi e lui il nove che si apre si mette sulla sinistra e poi decide di richiudere il triangolo dopo una cavalcata sulla fascia e trova Totti e sarà 307 volte Totti poi alla fine della sua carriera che di sinistro insacca Storari 1-0 l'ultima volta che lo insaccherà e poi arriva l'intervallo poi arriva l'intervallo in realtà prima dell'intervallo c'è dell'altro c'è continuano esserci azioni da gol ma anche la maniera di attaccare della Roma non è mai disordinata però la Sampdoria sembra rendevole sì è quello che dopo l'intervallo in realtà entra in campo quasi un altro avversario cioè non è più la Sampdoria del primo tempo o forse la Roma non è più quella del primo tempo questa è una bella domanda non si sa qual è il problema chissà cosa succede lì negli spogliatoi e questa io credo veramente che sia stata obiettivamente una delle ferite più grandi dei tifosi giallorossi in generale credo che se tu vada in giro a chiedere qual è il momento più doloroso ai tifosi giallorossi più o meno della nostra età quindi tra i 30 e i 40 anni e forse la Coppa Italia mi viene da dire ma io ti dico per me è peggio per me personalmente è peggio il 25 aprile 2010 come per me è peggio il 5 maggio certo ma perché comunque uno scudetto rispetto a una Coppa Italia con tutto il rispetto cioè nel senso quello rimane la famosa Coppa in faccia rimane un problema di di onore interno di rivalità cittadina esatto mentre lì è un'occasione con la storia che tu vai a perdere in qualche modo paragonabile c'è solo credo la finale di Roma di Coppa dei Campioni dell'84 e quest'ultima di Europa League per semplicemente perché la Roma non è una squadra che ha il blasone di arrivare spesso nelle finali fatto sta che inizia il secondo tempo la Sampdoria ha un'altra faccia ed è quasi estemporanea la giocata perché arriva una palla sempre sulla sinistra ad Antonio Cassano che la stoppa e fa una finta di corpo quindi ci troviamo sul lato sinistro del campo attacca verso la curva nord la Sampdoria sotto tribuna Montemario verso curva nord non nei pressi della banderina però comunque sulla fascia sinistra Cassano arriva riesce a fare una finta di corpo che manda a terra Burdisso che è uno che a terra ci va raramente e infatti combatte l'inerzia della gravità si rialza per intercettare il cross di Cassano che però è talmente avvitato il cross che fa che lui nell'inerzia di compiere il cross fa gli ultimi passi indietro tipo gambero cioè riesce a avvitare talmente tanto il suo sinistro che finisce a camminare un colpo alla Cassano la palla gira tantissimo e trova sul secondo palo il killer dell'area di rigore che è Giampaolo Pazzini che in quegli anni veramente era un killer che di testa imbuga il portiere della Roma sotto le gambe ed è 1-1 la Roma continua ad attaccare poi lì poi comincia poi comincia la storia della Roma lo psicodramma si apre lo psicodramma in cui tu non riesci a segnare in nessun modo finché all'ottantacinquesimo esattamente sotto Corva Sud esattamente nella stessa circostanza proprio quasi gli stessimi quasi una fotocopia di quello che era successo due settimane prima col gol di Toni Pazzini segna di nuovo di nuovo Pazzini due volte Pazzini e lì si spegne questa favola incredibile di una Roma che era partita da grande sfavorita che era partita con la retromarcia in Granata e che stava riuscendo a conquistare lo scudetto contro il Leviatano Inter di quel tempo che veramente si divorava i campionati il calcio è strano il calcio è infame il calcio è bello il calcio è bello però semplicemente a volte sei parte della storia ma la storia non è la tua magari sei l'antagonista in quel contesto e questo è il contesto di questa partita perché Ranieri di fatto è nella storia del triplete di Giuseppe Mourinho perché quella partita perdere quella partita contribuisce alla realizzazione di un altro sogno di un'altra storia che non è la nostra storia di un altro clutch time che è la storia del triplete di Giuseppe Mourinho quando uno dice che sta dalla parte sbagliata della storia purtroppo Ranieri in quella circostanza sta dalla parte sbagliata e lui continua così poi perché rimane alla Roma poi viene esonerato poi cambia squadra poi c'ha altre parentesi il Monacol la Grecia insomma continua a girovagare finché nel classico pattern della sua storia in cui viene chiamato a risollevare una squadra ad Outcast una squadra underdog una squadra che lotta per la salvezza nel 2016 Leicester Leicester viene chiamato per prendere le redini della panchina del Leicester la cosa assurda è che chiaramente non assurda la cosa assolutamente nella storia di Ranieri è che già lì i media partono dandolo come esonerato prima ancora di mangiare il panettone o il suo corrispettivo inglese non so cosa mangino a Natale la vittoria del campionato è data a 5001 una cosa incredibile quindi zero possibilità di vincere e il Leicester si ritrova a dover competere contro corazzate di un certo tipo che poi apriamo e chiudiamo una parentesi giusto per spiegare il contesto il Leicester non è nel gota o perlomeno non era nel gota dei club più importanti d'Inghilterra non lo è tutt'oggi perché oggi è in championship è tornato in championship tra l'altro oggi è allenata da Enzo Maresca ex vice di Guardiola questa è tutta un'altra tutta un'altra storia però in quel momento specifico lui in realtà come missione aveva la salvezza che è certo la più grande ambizione di Claudio Ranieri allenatore del Leicester era salvarsi però la stagione va in tutt'altro modo perché questo è Clutch Time è il Clutch Time di Claudio Ranieri è la sua storia è la storia in cui Don Quixote contro tutti e contro tutti ce la fa e pensa un po' di un po' di dati l'unica squadra a battere il Leicester andata e ritorno nel campionato 2016 è l'Arsenal e dopo la prima sconfitta Ranieri dice in conferenza stampa bene adesso vediamo di che stoffa siamo fatti certo dopo quella partita cominciano a non perdere più tra l'altro è una squadra fatta di una rosa che aveva un valore complessivo di 26 milioni all'inizio del campionato che è una cosa assurda pensare anche solo che potesse andare a competere contro Corazzate che ogni sessione di calcio mercato estivo arrivano a spendere cifre astronomiche perché parliamo comunque di City Manchester United Chelsea e il Chelsea non è il Chelsea di Claudio Ranieri degli anni 2000 è il Chelsea di Abramovic quindi è il Chelsea che si può permettere campagne acquisti faraoniche lo stesso Arsenal il Tottenham esatto sono tutte squadre di prima fascia del campionato inglese e il Leicester si trova a competere contro questi giganti questi giganti e scopre in realtà poi la cosa assurda è pensare quanto valeva la rosa all'inizio e quanto vale oggi e quanto poi alla fine del campionato si è rivalutata in maniera esponenziale perché hanno fatto un campionato che è rimasto nella storia Morgan Kanté Marez Vardy Vardy però icona del club Vardy è l'unico che rimane infatti poi teniamolo per ultimo però al centro del campo Kanté è uno che ruba i palloni è uno che rompe il gioco è uno che che ti insegue ti morde le capiglie per 90 minuti e quando tu riesci effettivamente entrare nell'emotività nella testa dei giocatori in quella maniera riesci a farli anche overperformare a un certo punto lui è bravissimo se vedi anche nel suo list lost è bravissimo a cavalcare l'entusiasmo solo che qui l'entusiasmo non si ferma più e lo comincia a seguire tutto il mondo tutto il mondo segue il suo entusiasmo ma io mi ricordo che mi guardo sempre la Premier perché è un campionato che comunque mi piace le partite sono sempre molto interessanti però mi ricordo e ti favo proprio per Ragneri cioè nel senso a me non interessa se vince una squadra o un'altra in Premier mi piace bel gioco mi vedo la partita perché sono sempre belle partite però io quell'anno ti favo per Ragneri assolutamente era una favola era la favola in cui tutti quei bambini che crescono con l'idea della magia dello sport e del calcio non poti non cavalcare anche tu quell'onda emotiva di Claudio Ragneri che parte da Roma e arriva in Inghilterra a compiere un'impresa clamorosa la favola dell'Eister è particolare anche perché ci sono sempre più elementi cinematografici al suo interno tipo il suo attaccante cioè Jamie Vardy è un'altra storia cinematografica perché ragazzo che viene da diciamo dai soborghi che va a 20 anni finisce a 18 mesi di domiciliari per una rissa in un pub che lavora per una fabbrica di fibre di carbonio e che solo a 25 anni approda il calcio professionistico che è tardissimo e parliamo di un calciatore che in quella stagione e poi anche dopo ne farà tante altre però in quella stagione fa 24 reti una rete in meno del capocannoniere della Premier League che è Henry Kane sì che poi tra l'altro Vardy diventa proprio l'immagine l'uomo copertina il working classero sì che è un po' lo specchio di tutta la città di tutta la tifoseria che ha finalmente la possibilità di vincere di competere di farsi vedere perché quando si gioca ad alti livelli è difficilissimo avere la parabola che ha Vardy ancora più difficile riuscire a mantenere una costanza di rendimento che ti porta da non essere nessuno a finire in prima pagina sui giornali e concludere una stagione da 24 reti in Premier certo quindi ancora più complicato ancora più bella la storia di Vardy se pensi che Harry Kane quest'estate a quanto è stato venduto è intorno sopra ai 100 milioni 110 al Bayern Monaco quindi voglio dire si andava a competere per il titolo di capocannoniere non proprio con l'ultimo degli ultimi ecco Mares e Vardy sono stati sicuramente i protagonisti in attacco di quella che è stata una macchina da gol perché loro non li battevi non li battevi e se vedi anche la convinzione la convinzione spregiudicata nella partita c'è una partita contro il Liverpool in cui quasi da centrocampo comunque poco dopo centrocampo Vardy va a contestare il primo rimbalzo con il difensore del Liverpool e poi tira una botta da 35 metri che finisce sotto il 7 cioè quello denota l'impedo la cattiveria sportiva che tu avevi in quel momento e forse è stata proprio quella la chiave di volta perché io poi non mi ricordo le parole esatte però mi ricordo tanti spezzoni di interviste a Ragnari dopo le partite che vinceva e lui continuava a ringraziare il gruppo per come si allenava e per quanta voglia metteva nel seguire le indicazioni che gli dava il suo allenatore e questa è una cosa che noi diamo per scontata in quanto il calcio oggi è fatto di professionisti però non sempre si crea questo tipo di alchimia non sempre c'è questa voglia determinazione di arrivare a vincere cioè o meglio forse tutti quanti partono con la voglia di vincere ma la vera difficoltà sta nella costanza di rendimento tanto è vero che Ragnari a metà campionato anzi in realtà lui dice in un'intervista che solo quando termina il girone di andata si inizia a rendere conto che quello 0% possibilità o quell'1% possibilità si stava trasformando in una reale possibilità di andare a competere per in un qualcosa di più e quindi quello in realtà va ad accrescere ancora di più il fuoco che alimentava quella squadra la voglia di farsi vedere come dei vincenti però forse questa è la grande forza di di Ranieri in assoluto perché la capacità di gestire questa emozione collettiva e di non trasformarla in paura o di non trasformarla in troppa foga di non trasformarla in nient'altro che non sia l'applicazione destinata e finalizzata esclusivamente alla vittoria quello è il grande talento il grande talento di Ranieri sta secondo me nel tenere calmo l'ambiente a quel punto perché è un attimo esaltarsi esaltarsi 9 volte su 10 nello sport porta a delle controprestazioni forse l'ha già vissuto forse sì forse riesce a mantenere quella calma proprio perché già c'è passato e quindi in qualche modo sa che cosa succederebbe se si continuasse a cavalcare troppo quell'onda lui tant'è vero che tutte le interviste che fa nei post partita il suo tono di voce a me colpisce sempre il suo tono di voce lui riesce a spiegare che cosa è successo durante la partita con quel tono pagato che probabilmente lo porta anche negli spogliatoi ad avere una sua credibilità con tutti i componenti della squadra ma anche a moderare le esuberanze comunque di un gruppo che a quel punto si sentiva non ti dico invincibile ma quasi perché perdere solo con l'arsenal l'andata e ritorno in Inghilterra è complicato è complicato sì infatti arriviamo alla trentaseiesima giornata siamo al Trafford casa del Manchester United casa del Manchester United tra l'altro il teatro dei sogni esatto uno dei degli stadi più antichi anche più storici ma nel senso proprio di quanta storia si è vissuta in quello stadio e il Leicester pareggia 1-1 e gli basta un pareggio del Tottenham a Stamford Bridge lui esce da da Old Trafford va in conferenza stampa e e qui si vede no la la magia di Ranieri perché gli chiedono beh dove vedrà la partita perché se a Stamford Bridge il Tottenham pareggia contro il Chelsea il Leicester si si laurea campione d'Inghilterra si laurea campione d'Inghilterra e la risposta di Ranieri è proprio secondo me emblematica di quanto poi tutto il circo mediatico tutti i giornali tutte le cose di cui nel tempo ci si è riempiti le pagine le bocche e i tweet negli anni un po' non abbiano colto l'essenza del personaggio secondo me dice io sto sull'aereo perché vado da mia madre perché devo pranzare con lei e loro gli fanno vabbè ma perché è il compleanno no no è solo perché voglio vedere mia madre ha 96 anni non so quanto tempo ci avrò con lei quindi vado con lei e lui sarà l'ultimo a sapere di aver vinto la Premier League perché sta sull'aereo in quel momento nel momento in cui il Chelsea pareggia 2 a 2 con il Tottenham e vince la Premier League così è un'immagine bellissima ma è un'immagine che rende onore a un signore del calcio perché alla fine Claudio Ragnari è un signore del calcio e infatti un altro a rendergli omaggio paradossalmente poi visto il dualismo ma lo sport è questo è proprio Giuseppe Murigno che si presenta in conferenza stampa subito dopo l'esonero di Claudio Ragnari dall'Eister perché perché alla fine il calcio è così cioè nonostante toccato le stelle con quel club arriva il momento in cui se non riesce a riportare i risultati comunque ti mandano via cioè non c'è riconoscenza non c'è niente e quindi si arriva Giuseppe Murigno che si sede in conferenza stampa con la tuta con le riniziali di Claudio Ragnari per rendere proprio omaggio a quello che lui ha fatto con il Leicester perché agli occhi anche di un vincente come Giuseppe Murigno rimarrà sempre un'impresa epica e quindi grazie per averci seguito fino a questo momento la puntata di Clutch volge al termine per questo episodio ricordate di iscrivervi al nostro canale di mettere la campanella per gli annunci Instagram Spotify chi più ne metta commentate anche per consigliarci e darci dei suggerimenti su cosa migliorare o anche quali storie vorreste che argomenti personaggi se avete domande quello che preferite buonanotte e buone cose questo是 ah a a a a a a a Grazie a tutti